Organizzato dalla Fondazione Neuromed, dal Dipartimento di Neuroscienze Gian Paolo Cantore dell'Istituto Neuromed e dalla Società Italiana di Neurochirurgia, venerdì 6 e sabato 7 aprile, presso l'IRCS di Pozzilli, il Forum dei Giovani Neurochirurghi. Ascoltiamo. Un evento giunto alla sua quarta edizione è dedicato alla memoria del professor Giancarlo Cantore. Parliamo del Forum dei Giovani Neurochirurghi, in cui venerdì 6 e sabato 7 aprile, presso l'IRCS Neuromed di Pozzilli, si farà il punto sui più recenti avanzamenti nel campo della neurochirurgia. Un incontro di rilevanza nazionale che vedrà la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurochirurgia. Due giornate dedicate non solo alle innovazioni scientifiche e tecniche, ma anche alla figura dello scomparso professor Gian Paolo Cantore, al quale il Dipartimento stesso è intitolato. Due le sessioni in cui l'evento sarà diviso, una dedicata alla chirurgia del cranio, con approfondimento sui relativi possibili tumori e trattamenti di questa complessa patologia, l'altra dedicata invece alla chirurgia spinale, con relazioni sul trattamento di patologie frequenti, come la mielopatia cervicale, la stenosi del canale lombare e l'instabilità lombare. Inoltre, entrambe le giornate verranno aperte da contributi scientifici, rivolti anche alla memoria del celebre neurochirurgo italiano Benamino Guidetti, in occasione del centenario della sua nascita.